gentili telespettatori buona giornata colpo di scena telefonata macron mattarella così mattarella scavalca giorgia meloni dobbiamo valutarla come qualcosa di positivo un aiuto o una mancanza di rispetto istituzionale una cosa è l'intento una cosa è cercare di voler fare qualcosa di buono però a volte nel cercare di voler fare qualcosa di buono si delegittima un'altra persona mattarella il presidente della repubblica non può interferire nella politica del governo lui è una figura di garanzia figura di garanzia verso la costituzione non può fare politica attiva non ha non ha le caratteristiche del presidente della repubblica non sono quelle di di fare politica la politica la decide il capo del governo quindi l'onorevole giorgia meloni mattarella fa questo intervento per rendere più distesi rapporti tra i due paesi dopo che i francesi hanno cominciato a strillare per aver ricevuto una nave ong con 230 persone se fosse stata una nave ong da 570 come arrivata in italia cosa avrebbero fatto e così un colloquio telefonico nel quale entrambi hanno affermato la grande importanza delle relazioni tra i due paesi che hanno condiviso la necessità che vengano e poste in atto condizioni di piena collaborazione in ogni settore in ambito bilaterale che nell'unione europea macron sottolinea la grande importanza delle relazioni tra francia e italia e così è l'iniziativa congiunta dei due capi di stato perché anche macron è capo di stato come mattarella solo che in italia c'è il presidente del consiglio e il presidente della repubblica ma attenzione è quello che fa macron in francia non è quello che fa mattarella in italia non bisogna confondere non sono pari grado perché fanno delle cose differenti mattarella solo è solo una figura di garanzia che non può entrare nella vita pubblica mentre macron in francia è il capo della politica francese mattarella non lo è è una figura di garanzia quindi c'è questo c'è questa differenza dove macron felice di surclassare la meloni e mattarella probabilmente ha fatto qualcosa che non doveva fare lo voleva fare a fin di bene forse probabilmente non ne siamo sicuri al cento per cento ma così ha delegittimato giorgia meloni a meno che non ci sia dietro giorgia meloni che abbia chiesto a mattarella di fare una telefonata perché ma perché la meloni non che abbia paura di macron ma la meloni non vuole casino in europa quello che sta cercando di fare la francia una nota del quirinale dice il presidente della repubblica sergio mattarella ha avuto con il presidente della repubblica francese emmanuel macron un colloquio telefonico nel corso del quale entrambi hanno affermato la grande importanza delle relazioni tra i due paesi e hanno condiviso la necessità che vengano poste in atto condizioni di piena collaborazione in ogni settore sia in ambito bilaterale sia dell'unione europea ovviamente macron voi avete visto dice cosa e poi fa altro dice una cosa un giorno il giorno dopo avete visto il primo colloquio con meloni a roma parlano e lui dice sì sì certo hai ragione ragione poi finisce il colloquio va dai giornalisti e dice dobbiamo tenerli sotto occhio capite che è un è un doppia faccia è un macron è è un doppia faccia alla doppia faccia dice una cosa davanti in maniera ipocrita e poi ne fa un'altra subito dopo quindi non crediate che sia tutto finito perché questo alla doppia faccia ha fatto una faccia con con mattarella ma adesso continueranno è il presidente del senato ignazio la russa puntualizza io credo che l'opera del presidente mattarella sia sempre utile ma credo anche che la fermezza del nostro governo possa e debba essere condivisa a detto a margine dell'inaugurazione del prolungamento della 52 rom onza rispondendo a una domanda sulla telefonata tra macron e mattarella intanto non si capisce se la russa ha fatto un complimento a mattarella o gli ha detto al contrario bisogna condividere la fermezza del governo non si capisce da questa frase cosa abbia voluto dire l'intervento mattarella macron potrebbe avere un riflesso sul vertice a bruxelles non credo proprio perché vi dicevo della doppia faccia che ha la sottosegretaria francese agli affari europei dice richiamerò l'importanza dell'unità europea della responsabilità per le vite umane la solidarietà degli europei e ne approfitterò per ringraziare gli undici paesi che aiutano la francia ad accogliere i rifugiati arrivati lo scorso fine settimana e loro sono preoccupati di quella nave sono riusciti a redistribuire quasi tutti i 235 arrivati con la ocean viking per loro è importante questo non aver fatto una figuraccia con l'europa loro ci tengono alla loro grandeur no quando si parla della grandeur francese cos'è la grandeur francese è che loro si credono grandi sempre comunque i migliori i migliori come il governo dei migliori viene intanto confermato che oggi non è previsto nessun incontro bilaterale tra italia francia lo conferma il ministro degli esteri antonio taiani in europa dicono che si lavora una soluzione ma non può essere fatta alcuna distinzione tra navi ong e altre imbarcazioni quando si tratta di salvataggio questo è ovvio mi sembra mi sembra che mi sembra di sentire delle sciocchezze immense dall'europa è ovvio ovvio che si salvano tutti ovvio ovvio c'è bisogno che l'europa lo dica e forse sì perché da malta abbiamo visto che quando ricevono delle richieste d'aiuto si girano dall'altra parte eh sì non è propriamente ovvio così pensandoci mentre vi racconto queste cose che non tutti hanno questa non tutti vedi malta quante volte si girano dall'altra parte incredibile purtroppo intanto la meloni punta nuove norme che limitano l'azione delle navi umanitarie che adesso vi racconterò in un altro in un altro video grazie a tutti per avermi ascoltato e vi auguro buon proseguimento di giornata ci vediamo presto